Il Signore si presenta a Mosè come Dio misericordioso e così ci rivela il suo volto e il suo cuore. Così Papa Francesco ha voluto iniziare, nella prima udienza generale del 2016 e nel pieno del Giubileo della Misericordia, una catechesi sulla misericordia secondo la prospettiva biblica, per imparare la misericordia ascoltando quello che Dio stesso ci insegna con la sua parola. Nel libro dell'Esodo, ha spiegato il Papa, il Signore, rivelandosi a Mosè, si autodefinisce misericordioso, che si commuove e intenerisce per noi come una madre, con un amore che si può definire viscerale. Si chiama poi pietoso perché ha compassione ed è sempre pronto ad accogliere, a comprendere, a perdonare come il padre con il figlio il prodigo. E poi lento all'ira perché sa attendere e non ha i tempi impazienti degli uomini. E infine è grande nell'amore e nella fedeltà e il suo amore non è l'amore da telenovela, ha spiegato Papa Francesco, ma amore che fa il primo passo che non dipende dai meriti umani ma da un'immensa gratuità. E questo Dio misericordioso è fedele nella sua misericordia. E Paolo dice una cosa bella, se tu in confronto di lui non sei fedele, lui rimarrà fedele perché non può renegare se stesso. La fedeltà nella misericordia è proprio l'essere di Dio. Grazie a tutti.